Stasera vi racconto una storia in cui c'è qualcosa di particolare. E questo qualcosa di particolare è che il mostro in questa storia non fa paura, non fa proprio timore, o meglio, fa tanta paura, al punto tale che per difendersi si decide che non deve far paura, cioè che non deve proprio esistere. È una strategia di difesa. Ciò che mi incute tanta paura dico che non esiste. Ma ecco la storia. Siamo un secolo fa, anni venti, anni venti del Novecento. Un momento particolarmente travagliato, violento, convulso, c'è una guerra alle spalle, c'è una crisi economica in corso. E in tutto questo immaginatevi un professore. Un professore che insegna storia in Toscana, è uno stimato, è un socialista. E questo professore se ne sta là, come dirà lui, nel suo cantuccio. Fa le sue lezioni ai suoi allievi, ha aperto un circolo culturale a Firenze, nel cuore di Firenze. Poche stanze hanno portato i loro libri, hanno portato i mobili presi dalle soffitte e là si ritrovano per discutere, per dibattere. Bene, in tutto questo siamo nel 1919 e qualcuno, poche decine di persone a Milano, fondano i fasci di combattimento. E quando al nostro professore viene chiesto cosa ne pensi, lui risponde dicendo ma no, sono ragazzi, sono teste calde, sono i violenti di turno, ma non vi preoccupate, il fenomeno si sgonfierà. E il nostro professore continua a fare le sue lezioni nel cantuccio normalmente. E non cambia idea neppure quando quei ragazzi che hanno fondato i fasci di combattimento si presentano alle elezioni nuovamente e questa volta ottengono 35 deputati, che sono tanti. Ma il professore dice, no, non vi preoccupate, i violenti ci sono sempre stati. E questi adesso sono persone che vanno per strada, sfasciano tutto, che assaltano le camere del lavoro, 700 morti in due anni in Italia. Però il fenomeno si sgonfierà comunque, il fenomeno è destinato a riassorbirsi in se stesso. Non diamo importanza alle minoranze, non diamo importanza a questi piccoli esagitati. Già, il cantuccio. E il professore continua, continua a fare le sue lezioni. E non cambia idea neppure quando nel 1922 quelle poche persone che avevano fondato i fasci di combattimento sono diventati 28.000. 28.000! E marciano su Roma. E Sua Maestà decide di dare a Benito Mussolini l'incarico di formare il governo. Il nostro professore, che non è l'ultimo venuto, ma è Gaetano Salvemini. Vi sto parlando di uno degli uomini più importanti, di uno degli intellettuali più aperti nella storia italiana. Gaetano Salvemini anche in quel caso risponde, sapete come? Risponde dicendo, non vi preoccupate, non diamogli importanza. È vero, Mussolini è diventato capo del governo, ma proprio questa sarà l'inizio della sua fine, perché i movimenti di protesta sono come un fuoco di paglia e appena vanno al governo si smontano in poco tempo. Mussolini ha le ore contate. E invece non va così. Non va così perché passa neppure un anno, ci sono le elezioni, e complice anche una legge elettorale ritagliata su misura, i fascisti praticamente riempiono il Parlamento. Ma il nostro professore ancora una volta dice no, il fenomeno non esiste, state tranquilli, non esiste, e continua le sue riunioni con i suoi allievi là, in quelle due stanze nel cuore di Firenze, in Borgo Santi Apostoli, fino a quando? Nel maggio, giugno, un certo deputato di nome Giacomo Matteotti si alza in Parlamento e affronta i fascisti dicendo la verità. Parla di brogli elettorali, parla di torbidume, parla di cose che non dovevano andare come sono andate e dopo poco viene trovato ucciso. Scriverà Gaetano Salvemini testualmente quello per me fu come uno scossone. Io mi resi conto che non potevo più stare nel cantuccio e che dovevo prendere posizione. E cosa fa allora Salvemini? Beh, decide di fare, decide di creare un'occasione per vedere se il mostro sia veramente un mostro. E cosa fa? Là, in quel centro culturale, organizza un incontro pubblico. All'apparenza era soltanto una conferenza, ma alla fine di quella conferenza molti di loro si alzano in piedi e cominciano a gridare Viva Matteotti! Viva Matteotti! E anche lui, lui che è un professore di storia, rispettato, stimato, da cui mai ti aspetteresti una cosa del genere, anche lui grida Viva Matteotti per vedere se dall'altra parte il mostro sia veramente mostro. E in effetti lo era. Perché quel piccolo centro culturale in Borgo Santi Apostoli, nel cuore di Firenze, viene invaso dalle camicie nere, viene sfasciato, devastato, distrutto tutto, spaccati i mobili, rotte le sedi. Vengono incendiati i libri. Non resta più niente se non macerie, polvere, fumo. E anzi, siccome nel frattempo il mostro è diventato veramente grande, dopo pochi giorni addirittura il prefetto di Firenze dà l'ordine di chiudere quel centro culturale perché è illegale e minaccia l'ordine pubblico. Scriverà Gaetano Salvemini mai nella vita io ho commesso errore più grave che sottovalutare Benito Mussolini e il fascismo. Mai io ho commesso errore più grave che non vedere. Ecco, di questo vorrei chiudere oggi parlando. Che molte volte, vedete, si parla di cecità, di chiudere gli occhi. Invece no, io vorrei parlare stasera con voi del fatto che molte volte le cose le vedi. E come se le vedi? Le vedi intorno a te. Le vedi distintamente intorno a te, davanti a te. Ma attenzione, perché una cosa è il verbo vedere e una cosa è il verbo guardare. Guardare implica una scelta, implica avere una relazione e anche dover reagire a ciò che decidi di guardare. È molto comodo non guardare e limitarsi a vedere. È un bel verbo, il verbo guardare. Guardare è un verbo che implica forza, coraggio. Guardare è l'antifascismo ed è la ragione per cui, a maggior ragione adesso, dico grazie agli occhi che guardano di tutti gli antifascisti.